non so però vabbè è bello oggi è stato meno nuovissimo video sul brawl stars se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate like e per questo è tutto e adesso buona visione voglio solo dirvi due cose se non ci vuol dire iscrivervi al canale e lasciare like è che oggi usciranno due video tra qualche minutino uscirà un video su granny esatto ho anche granny e invece mi sa quattro e mezza cinque uscirà il video non giocare a fort perché in questi giorni sto avendo problemi sul caricare video su dalla ps4 e per questo se oggi non esce uscirà allora domani oggi andremo a arrancare con gelindo iniziamo la partita intanto raga ora intanto che sto giocando mi si sta installando quindi non lo so fatemi abbassare l'audio ok prendiamoci questa cesta facciamo il primo raga gelino mamma mia se non avete ancora visto il video di quando l'ho trovato link in descrizione non non raga 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 non raga 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 capo odio rega ce l'ho fatta mettiamo un po provato di ulti io via no era vero non sono bravo io io facciamoci ancora qualche partitino poi nato che si è appena installato grande mi sa farò appunto i grandi di nuovo sp e come quello di primo è un altro e non so se quello di prima ma seriamente no è vattene via e vabbè girino fa pochi danni non ci credo non ci credo rega io l'ho detto che gendo non è proprio il miglior brawler che si potesse trovare si è raro trovare un croatico però non è tanto bravo c'è dico che non è tanto fesi vabbè o ma rega sto sempre morendo io molto faccio esi poi mi sa mister pino l'ho ancora trovato mi sembra che non l'ho ancora trovato otto di vita e aspettare a prendere power up no è regata solo potremmo anche farcela rega ha preso danni un rega bella vittoria questa bella vittoria mi piace questa partita abbiamo ri dai lega potremmo volendo sbloccare anche anzi non è dopo questa partita sta col video così magari domani se mi ricordo di non giocare a brun stars ecco farò vi il video che si chiamerà vabbè il meno le cupi che ci saranno da adesso ci potrebbe stare riga dai che dite voi per me ragazzi ci può stare un video del genere ho fatto un male fatene via io poi non so se anche la ulti sia a spazzarvi alla gente fa danno questo non lo so ancora mi sa sembra mi sembra mi sembra di sì no ok mamma io 56 di vita rega ecco io ah comunque si regala ulti fa danno che c'è vinto noo rega hanno vinto l'oro e vabbè io non sono ancora bravo rega come ho detto appunto prima con gelindo ok rega meno 10 a enz rega domani ci arriviamo sicuro anche adesso però non c'è voglia quindi rega niente per questo video è tutto ci vediamo in un nuovissimo video bella rega